Cariche delle forze dell'ordine per disperdere i tifosi. Fumogeni e petardi all'uscita dell'Olimpico dopo il derby Lazio-Roma. Già dentro lo stadio erano iniziati i tafferugli, sono dovuti intervenire gli uomini in divisa antisommossa. Poi fuori nelle strade adiacenti allo stadio c'è chi ha sfogato così la sua rabbia. Rabbia sfogata anche su una postazione per le dirette della RAI, distrutta una telecamera e del materiale tecnico. Così vanno ridotto la telecamera per i collegamenti, com'è successo? E' successo che gli scontri sono partiti dalla parte di Ponte Milpio, poi la polizia li ha spinti oltre il ponte, una parte è sfuggita e sono venuti qua e hanno buttato tutto per aria. Che chiedevano? Niente, dicevano che volevano la cassetta perché noi mandiamo in galera la gente, mentre invece la nostra è una telecamera che non registra perché è una telecamera che fa collegamento. Traffico in tilt e divise nelle strade. Si segnala un ferito grave, accoltellato, quattro fermati dalle forze dell'ordine in questa serata del dopo derby che non ha nulla a che vedere con lo sport.